Due gol, due cartellini rossi, emozioni e spettacolo. Succede di tutto a Otranto, tra Otranto e Martina, ma alla fine vincono i biancazzurri ospiti per l'undicesima volta consecutiva in questo campionato. E pensare che il primo squillo era stato proprio di marca Salentina, al quinto minuto il palo di Villani, palla tirata fuori dalla porta dal legno. All'ottavo minuto di Arra di testa ci riprova, rimane sullo 0-0 il punteggio e all'undicesimo allora passa in vantaggio il Martina e Mangialardi di testa, il più abile nell'area di rigore avversaria per fare 1-0. Al quattordicesimo minuto di gioco il rosso che potrebbe cambiare la partita, Mancarella protesta ma probabilmente ha colpito in maniera proibita del Gado. Al ventesimo l'Otranto con Villani va ancora vicinissimo al gol del pareggio, al venticinquesimo è pericoloso Ancora, para però in maniera importante Caroppo. Al ventisettesimo torna in parità la partita dal punto di vista degli uomini in campo, il rosso è per Cannito che scalcia un pallone su un avversario. A riposo sull'1-0 per il Martina nella ripresa, la partita stenta a decollare, il Martina che sfiora il 2-0 con Cerutti di testa, la palla centrale al ventitresimo minuto del secondo tempo, al quarantesimo minuto la più grande occasione per i Salentini e con Palumbo di testa. Un minuto più tardi però del Gado fa 2-0, esplode la festa dei tifosi del Martina, la capolista se ne va, sono 11 di fila e quel primo posto che sembra quasi in ghiaccio persino a novembre.